Democrazia Cristiana rappresentata da Cavaliere Mario Petrillo che cita il coraggio del Presidente della nonna Municipalità, Dottor Agostino Romano. Sono venuto molto spesso in zona, nella corte dei rappresentanti del Poggio Maggiato, sia che si mette altro che stavano appunto bambando prima. Sono venute storie del quartiere, ma è inutile dirla perché le conoscono tutti. Però tu devi fare molta attenzione, ma il nostro sostegno a far sì che tu, ovviamente, ci troverai molto vicini. Ci troverai molti ore a far sì che tu operai nell'interesse del quartiere della Municipalità, ma nell'interesse di chi ha bisogno veramente di noi. Il Cavaliere aggiunge che Terra dei Fuochi non è solo Marcianise, Casal di Principe e Caevano, ma anche lì, in quel posto, non a Municipalità, Soccavo, Pianura e creare, quando più è possibile, posti di lavoro, posti di lavoro.